Sicilia ci chiede, secondo te materia e spirito sono la stessa cosa? Qui è Luca Luna che ti parla dall'altra parte del video e condividi questo video perché è importante. La risposta ha diversi livelli da cui puoi essere osservata. Una mela e un sasso sono la stessa cosa? Prova a mangiarli? No. Ok, quindi da questo livello materia e spirito non sono la stessa cosa, quindi il corpo non è la stessa cosa dello spirito, la mente non è la stessa cosa dello spirito, le emozioni non sono la stessa cosa dello spirito, sono delle cose diverse da un certo livello. Da un altro livello non esiste materia, non esiste spirito, non esiste mente, non esiste emozioni, sì non esiste nemmeno lo spirito. Quindi bisogna vedere da che punto di vista si osserva questa cosa. Se la osservi poi da un punto di vista di fisica quantistica la materia non esiste perché è tutto un grande agglomerato di vibrazioni e non c'è nessun tipo di materia. Tuttavia il nostro sogno collettivo ci fa credere che la materia sia la materia. Quindi ma se la materia non esiste com'è possibile che se tiro una capocciata contro il muro mi viene fuori un bernoccolo? Perché quando menti, quando le menti fanno uno stesso identico sogno a un certo livello emozionale per un certo periodo, ecco che quella realtà diventa reale, condivisa anche per altri. Infatti, ci sono due considerazioni da fare. Una è la considerazione di Bruce Lipton che dice che quando prendi una cellula staminale e la inserisci in un tessuto, quella cellula al di là della propria volontà diventerà il tessuto in cui è inserita. Quindi se prendi una cellula e la metti in un tessuto osso diventerà ossa, se la metti in un tessuto nervoso diventerà nervoso. Adesso uno dice, ma io volevo diventare sangue, hai sbagliato ambiente. Io ti faccio un esempio un po' più terra terra e dico, se vai nel freezer è difficile che diventi caldo, è molto difficile. Probabilmente diventerai freddo, quindi l'ambiente influisce. E però io voglio diventare caldo, però io so che il freezer è un'illusione. Eh, se lo so, però l'ambiente è più potente di te. A meno che fai come Gesù Buddha e ti illumini, ti illumini d'immenso e ciao, ariom tatsat. E se è arrivato a sciogliere l'indovinello, il quiz e quindi ce l'hai fatta, hai risolto il rebus e se ne presenterà un altro. Così dicono che Buddha, il Buddha e Gesù eccetera e altri personaggi illustri abbiano risolto il rebus. Così dicono. Non ci ho mai parlato, però in fondo. E vabbè, insomma, questa è la questione. Quindi la materia e il spirito non sono la stessa identica cosa. Sono due cose diverse oppure sono tutte una grande illusione. Con questo è tutto, ti saluto, condividi, ciao. Grazie. Grazie.